Saluti e ben agattao su Inosa, su Gazzettino Sardu, in Sardu, dei canali 40, a Bieuso, Ittenosa, in Dedeo, il lunedì 15, della Damini, 12.08. Su De Impusumalu, in conto De De Impusumalu, in sprovisione si lasse anta pagu pasio, il luegu su Antattorra e Atrasatre e Vessurasa. Non dogghiesti studenti, resibisti ghinja i droppi, ma è sta precisu, detturai attentus. Itta ha raguntessi la capassum inizia a Beniri e in Sandusu, isultima sannosa, birinti sagira, gummi insendi caratterizzara da uno vortice ciclonico mediterraneo, postu a ovest des Isula. Chi ha rabettiri, acqua, vina sa astracia, menis argiolasa de sud des Isula, S'acqua, esti brevidi, a bruschetto tubo martesi, mercolese e giovia. S'apressioni, arti e la depritorrai, a saccavo dei gira, con soli e temperaturas apruso gallentisi. Ma la contessia, estreviara, riseo in carbonia, mensù dentro del sagittario, e anche a resi causa di sgrazia, una vettura posteggiara su costa di un bar in arruga chiusa, a rimuovere l'entancare la bottega attumbendo e trasinando i mesi gedda, ma anche a un diventassezio su una scanto clientisi. Poi orti buona, scetti, sazzicchi, e calin con una vista dura a Levia. Capasso, chissà, vettura, vi era a Kennedy, ogni sovrano a mano, o con un sovrano a mano, guasto, carabinieri 618, vunti l'ompiuso, direttusus, può accrarai a pizzo della contessia. Biddemassaio su vari sconti su un suo passato. In Biddemassaio su sin divesa la sabettia, a pizzo di un'istoria già iscarescia, che può un uvizio, ma in scartasa, torna a rabbessire a pillo e a treulare il relattasa in tre biventesi e amministrazioni comunali. Sa contessia, esti dei 36 anni saoi, e o indi esti un ucorredo su comuni. I ragomporau de un numeri unico, un argiola de terra, manna de usa agricolo, mea undi, insinterisi. Altri subidaio su ianta fabbricao e sdomo su insoro, vunti i sessantasetti, fabbricao su su comuni, posanais con terra sa de proprietari, i ragomporau de una terra a sumeri, e moico sul logo su sinaranta arruga olivi, arruga platani, arruga desi sport. A pustisi sumeri beccio, iera pedius acconciamento de su prezio possimpero nou dai agricolo a urbano. Primi incendi, una causa che esti lompia, viena sa sa corte de cassazione. A ultimo, su comuni, a ridepio pagai, po' una summa de 700 mila euros. Conforme a sale, viena sa emersi in noso, de domus, de pintivoni, sa vartinsoro de percentuali, ma in amministrazioni, si, fin a sa oi, non ti mai attendio a sa faina. Esti sa giunta de Deborah Porra, o indi, chiesti in carara se rai sa chistioni, manca i sbetti a sa fruscinanta. Intre chi ni ha ripagà o chi ni non bolli ripagai, chi ni non comprendi le voità depi ripagai, po' uno sbaglio vato dai su comuni, carant'annu su a oi. Un'a diri poi morto su de traballo a risse o a menziano, ma in Gonesa, anta festavo sa de sissanto turizi dessa giornata nazionale, poi morto su e esistruppiao su traballenti. Danta prontare a Sanmil Onlus, sa socio nazionale des traballadores esistruppiao su, conforme a su programma di salavamento, antincingiao un'allosa, ma in prazza dei suominatori, puoi ricordare i morti su traballenti. Appustisi totti i spersonisi, gli antipigau parte a sa cerimoni, antitrasmudau anch'essa palestra desi scola media, aonde suvredi è arrivato una missa de suffragio, poi straballadores i morti su. Appustisi dessa missa, in sa cerimonia civile su sindico, Ansel Cavidua, rintregau brevetto su e medagli sa impari a sovrir su presidente de Sanmil Antonio Piredda. E ventus su e bandus su consigli comunali in Carbonia, oi india i setti orasa de merisa, topiera su consigli comunali, con sa presidenta Daniela Marras, sa sezzi da te oi lunesi 15 des su mesi della Damini, in prazza a Roma, sarà regionai des argomentus a sordine des suddiri. Comunicazionesi des su sindico, preguntas a zerriarasa, emozionesi, votazioni des su balancio des esercizio du su mila e des jassetti, nomina dessa rappresentanza dessa amministrazioni comunali post-occasioni dessa anniversario dessa gittari. Custa via la sultima noa, grazie, se vuoi segui un curso, s'informazioni in lingua sarda, la torra è il luego, so sempre in noi. Arioso. 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 Grazie.